Gentili telespettatori, buona giornata. L'Europa contro Matteo Salvini, il leader della Lega. Perché? Il leader della Lega replica le contestazioni ricevute dal suo partito alla fiaccolata Roma a favore del dissidente russo Navalny. La Lega viene contestata a questa manifestazione perché? Perché il suo capo, Matteo Salvini, rideva di questo Navalny qualche tempo fa, rideva di lui. Lui che era con le magliette di Putin, le immaginette in ufficio. Lui era un fans di Putin. E pertanto per lui era un idolo. Diceva che lui avrebbe scambiato volentieri due mattarella per mezzo Putin. Quindi il suo idolo, poi non capisco perché idolo, non lo so. È il suo idolo. Va bene. Perché? Ognuno ha i suoi idoli, ci mancherebbe altro. Ognuno è libero di avere i suoi idoli. Quindi Salvini era uno che rideva di Navalny. Poi ha mandato delle sue persone, ha mandato il capogruppo della Lega, Massimiliano si chiama, Romeo, non sono sicuro sul nome, Romeo, no? E questo è stato contestato. Gli hanno gridato vergogna, come? Prima ridevate di questo signore che è scomparso, adesso venite qua a fare la fiaccolata. Naturalmente nel contestare la Lega hanno tirato dentro anche dove sono i 49 milioni e Savoini. Mentre attaccavano la Lega per essersi presentati a una manifestazione dove il loro leader rideva di questa persona, ci hanno buttato dentro anche tutto il repertorio antisalviniano. E allora Salvini ha deciso di, dice adesso ci penso io, gli rispondo io a questi qua che hanno trasformato la manifestazione in una cosa contro la Lega, dice lui. E allora Salvini interviene e dice Capisco la posizione della moglie di Navalny, ma la chiarezza la fanno i medici e i giudici, non la facciamo noi. Subito interviene Calenda che dice Salvini La posizione e quello che dicono i giudici in un paese dittatoriale non conta assolutamente nulla. Quello che dicono giudici e medici in una dittatura non conta niente. E Calenda ha ragione. e io mi dico Salvini perché prima di parlare non ti fai consigliare da qualcuno? Dici guarda sto per dire questa cosa da una persona di fiducia dici guarda sto per dire questa cosa secondo te? Ecco io avrei sconsigliato Salvini ha detto no no ma cosa vai a dire? No ma lascia perdere, non dire niente a volte il silenzio è d'oro il silenzio vale più di mille parole secondo me ha mandato la Lega a fare la fiaccolata per una persona che lui gli rideva dietro ti insultano fai finta di niente non dire niente perché qualsiasi cosa potrai dirai sarà utilizzata contro di te purtroppo le cose che si fanno nel passato rimangono cioè se uno si mette una divisa nazi quindici anni fa quella rimane te la spiattelleranno in faccia per tutta la vita se tu ridevi di questa persona pubblicamente oggi non puoi far cancellare quello che pensavi prima magari oggi pensi diversamente magari pensi uguale chi lo sa però non puoi cancellare ecco come vi ho sempre detto il Salvini che cantava contro i napoletani saltellava col bicchiere in mano e faceva quei cori da stadio contro i napoletani poi è diventato prima gli italiani e ovviamente i napoletani non dimenticano cioè se tu prima li offendi dopo non puoi più recuperare come politico quindi se prima ridi dietro a Navalny poi non puoi più recuperare e allora forse meglio il silenzio la cosa più consigliabile è il silenzio infatti l'Europa risponde a Salvini dicendo guardi Salvini che non servono le indagini di giudici o medici la non servono l'Europa risponde se quella persona non fosse stata detenuta ovviamente oggi sarebbe ancora viva quindi non è non è Ellis Schlein che rimprovera Salvini non è la Meloni non è Conte non è frato Iannio Bonelli ma è l'Unione Europea che quando ha sentito Salvini che dice i giudici faranno chiarezza l'Europa dice ma cosa stai dicendo però dovete capire che la Lega ha un patto con il partito di Putin un patto d'amicizia i due partiti sono amici dal 2017 hanno fatto sto patto di amicizia poi questo patto di amicizia andava andava disdetto sei mesi prima se lo volevano disdire poi è cominciata la guerra in Ucraina e lui non ha fatto tempo a disdire questo patto e automaticamente si è rinnovato perché doveva disdirlo sei mesi prima ma durante gli ultimi sei mesi è cominciata sta guerra e automaticamente il patto di amicizia si è rinnovato nel 2022 per 17 18 19 20 per altri cinque anni capite che chi ha un patto di amicizia con il partito di Putin ti dice che capisco la moglie ma lasciamo i giudici dire la loro insomma diciamo e possiamo affermare tranquillamente che questo politico molto spesso è completamente indifendibile cioè con tutta la buona volontà non riesce a difenderlo perché credo che il perché lo abbiate capito dopo questo video di 8 minuti avrete credo la maggior parte una fotografia chiara di chi è chi è questo politico come ragiona come si muove per me risulta davvero indifendibile impossibile difendere una persona così grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti